Tre applausi vibranti di affetto e lacrime, tre serie di palloncini bianchi e azzurri che salgono in cielo, in mezzo a un mare di persone, oltre un migliaio. La città ha voluto abbracciare un'ultima volta i suoi figli streppati alla vita prima di averla conosciuta davvero e ha voluto provare ad alleviare il dolore dei genitori, delle famiglie. Era impossibile riuscirci, ma è stato un tentativo meraviglioso. Oltre mille persone, oltre alle 180 che sono state ammesse all'interno del santuario della Madonna Pellegrina, hanno seguito dal piazzale delle Corriere la cerimonia funebre per l'addio a Marco Stocco, Filippo Bettarello, Michael Zanforlin, 18, 17 e 17 anni, i tre ragazzi che hanno trovato la morte nella serata tra martedì e mercoledì scorso in un incidente sulla strada per Grignano-Polesine. Già mezz'ora prima del funerale il piazzale era pieno. Cartelloni per ricordare gli amici, foto, brani di canzoni, soprannomi, amicizie. Tantissime persone ad attendere i tre carri funebri che hanno proceduto affiancati accompagnando i tre amici tra le due ali di folla che li ha accompagnati, guidati, circondati. Sono stati gli amici di Marco, Filippo e Michael a prendere in spalla i loro compagni e guidarli per l'ultimo viaggio. Poi all'uscita ricordi, applausi e tanti palloncini che volavano lassù per dire addio ragazzi.